Buonasera che emozione sei le le opinioni sul film ma no deve ancora partire che emozione sei che emozione sono non so se rabbia perché non lo so ma sono stato cresciuto a panni e rabbia quindi mi esprimo così sei un fan della disney pixar e beh sì come come si fa non esserlo insomma sono dei calcolatori delle emozioni cioè scrivono questi algoritmi perfetti film preferito film preferito della pixar toy story 3 grazie